Sono in 500 i ragazzi partiti questo pomeriggio da ogni zona della diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro, alla volta della Spagna. Zaino e sacco a pelo in spalla, negli occhi, l'entusiasmo e la curiosità di chi affronta un'avventura che durerà 18 giorni. 18 giorni da vivere insieme, viaggiando, pregando, incarnando quel messaggio di amore universale di cui si fanno portavoci, radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede. Prima tappa dopo una traversata in nave di ben 22 ore, Valencia, una piccola babele per i giorni nelle diocesi, che dall'11 al 15 agosto accoglierà 30.000 giovani provenienti da tutto il mondo. Noi saremo ospiti a Cheste, che è una piccola cittadina al nord di Valencia, circa 26 chilometri, e la parrocchia ci sta aspettando, ci accoglierà, ci ha preparato già un momento di preghiera, un momento di festa, insomma un'accoglienza anche semplice, ma allo stesso tempo spero bella, siamo già andati lì a conoscere un po' i ragazzi, un po' a conoscere il parroco, e quindi ci accoglieranno e ci ospiteranno. E poi dopo andremo a Valencia per vivere quello che loro hanno organizzato, principalmente il rosario sulla spiaggia, una cosa un po' particolare, e poi una vigilia dei giovani, loro la chiamano così vigilia, è una veglia di preghiera, davanti alla Virghe, alla Madonna de los Desamparados. Questo 8 agosto l'abbiamo aspettato veramente tanti anni, l'emozione è grandissima, anche la stanchezza, però sicuramente la c'è di partire sovrasta tutto.